E' viva, sta bene, si alimenta e ha preso anche un po' di peso. La cagnolina che adesso riceve le amorevoli cure dei volontari EMPA al canile del Casentino è l'unica superstite di un'intera cucciolata. In tutto sei cagnolini che erano stati ritrovati in un sacco nero a stia, avvolti ancora nella placenta materna e gettati da un ponte. In cinque purtroppo non ce l'hanno fatta, le condizioni di salute dei cinque fratellini erano talmente gravi che nonostante l'immediato intervento dei veterinari e dei volontari non sono sopravvissuti. Per la grave vicenda è stato il sindaco di Prato Vecchio Stia a denunciare tutto ai carabinieri che adesso stanno cercando di risalire al responsabile. Per la cagnolina non si può ancora dire che sia fuori pericolo, le sue condizioni rimangono fragili e i prossimi giorni saranno decisivi. Una volta compiuti i 60 giorni di vita sarà fuori pericolo, le sarà applicato un microchip e dopo il vaccino sarà finalmente adottabile.